Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Anticipazioni La Promessa Giana scopre l'assassino di sua madre? L'uomo indossa l'anello In questo entusiasmante video dedicato alle anticipazioni della serie La Promessa esploreremo gli avvenimenti più recenti. Cercando di scoprire se Giana riuscirà finalmente a identificare l'assassino di sua madre e svelare la verità sulla sua identità. L'anello indossato dall'uomo misterioso è un indizio di cruciale importanza. Ma facciamo un passo indietro. Ricordiamo che Giana, sotto falso nome, si infiltra alla festa di matrimonio di Thomas, determinata a scoprire l'assassino di sua madre, Dolores. Nel suo audace tentativo, però, viene sorpresa da Thomas, che ha conoscenza della sua vera identità, ma decide di non rivelarla mai. Ora Giana si trova sola, può contare solo sull'aiuto di Maria, un'altra domestica, e sui frammenti dei suoi ricordi per proseguire le indagini. L'assassino, secondo le informazioni raccolte, è un uomo destro, imparentato con la promessa, riconoscibile dal suo anello con lo stemma familiare che portava all'anulare della mano destra il giorno dell'omicidio. Basandoci su queste informazioni, siamo giunti alla conclusione che ci sono cinque sospettati nella morte di Dolores. È giunto il momento di presentarvi i cinque possibili colpevoli dell'omicidio di Dolores. Il primario indiziato è Don Juan, il quale, nel corso della serata di celebrazione dell'imminente matrimonio tra Thomas e Jimena, presentava all'anulare della mano sinistra l'anello del giuramento. Nonostante questo particolare sembri esonerarlo dalla colpa, è plausibile che l'ornamento sia stato collocato su un dito differente nel corso degli anni. Tuttavia, la domanda rimane, quale sarebbe stato il motivo che avrebbe spinto il barone a desiderare la morte di Dolores. È evidente che lui e la Marchesa nascondono qualcosa, poiché si sono mostrati molto agitati quando Donna Eugenia ha menzionato il nome della cameriera. Una teoria suggerisce che, come avvenuto con Pia, il padre di Cruz potrebbe aver abusato di Dolores e avrebbe voluto ucciderla per evitare che parlasse. Le indagini sono ancora aperte e tutte le piste rimangono possibili. Il misterioso assassino di Dolores ha chiesto il permesso prima di uccidere la giovane donna, e questo non suggerisce che sia un gentiluomo, ma piuttosto un emissario della famiglia. Romulo, l'uomo di fiducia del barone, ha già confessato al padre Camillo di aver servito il barone dell'Inaia prima di diventare maggiordomo della tenuta. Naturalmente, Romulo sarebbe stato solo un esecutore materiale dell'omicidio e non il mandante. Un elemento chiave è che Romulo abbia avuto un incontro con Dolores e l'atto di Gianna, che coinvolge i suoi capelli, gli ha richiamato alla mente una persona proveniente dal suo passato. Tale individuo potrebbe essere sia la domestica che si prendeva cura di donna Eugenia, sia Gianna stessa quando era bambina. La rilevanza dell'anello potrebbe costituire una prova a favore del maggiordomo, ma qualora qualcuno gli avesse impartito l'ordine di indossarlo, quale sarebbe stata la diretta conseguenza? In questa situazione sono tutti sospettati, anche quelli che non sono ancora comparsi sullo schermo. Ebbene sì, ci sono ancora due persone che potrebbero essere sospettate dell'omicidio, ma non sono ancora state presentate nella vicenda. Una di esse è il padre di Curro, un uomo poco conosciuto perché è sempre in viaggio. Sappiamo che non si è mai preso cura del figlio e ha maltrattato donna Eugenia. E se fosse stato innamorato di Dolores, avesse avuto un figlio con lei e avesse poi deciso di ucciderla per evitare che parlasse? Dovremo attendere la sua comparsa per acquisire maggiori informazioni su di lui. L'altro individuo sospetto, sebbene fuori dal radar, è il fratello del Marchese. Non eravamo neppure a conoscenza della sua esistenza fino all'arrivo di Martina. Abbiamo poche conoscenze su di lui, tranne il fatto che in passato ha avuto un acceso litigio con Alonso, interrompendo così la loro relazione. Se avesse un coinvolgimento con gli avvenimenti del passato e se il fratello del Marchese fosse la persona che ha ucciso Dolores, con Alonso a dare l'ordine? Le soluzioni e le ipotesi degli appassionati della promessa sono molteplici e tutte potrebbero essere legittime. Una cosa è certa, Thomas sembrava essere consapevole dell'identità dell'assassino della madre di Gianna e ha pagato il prezzo con la sua vita. Inoltre, anche Cruz, che in seguito ha eliminato Thomas, potrebbe possedere informazioni riservate. Siamo profondamente desiderosi di scoprire come si evolverà la trama e quali verità verranno portate alla luce. La promessa continua a tenerci sulle spine, regalandoci colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Non vediamo l'ora di seguire le prossime puntate e scoprire cosa riserva il destino a Gianna e alla sua ricerca di giustizia per sua madre. Vi ringraziamo di cuore per aver dedicato il vostro tempo a guardare questo coinvolgente video. Se vi è piaciuto, vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella per rimanere costantemente aggiornati sulle ultime notizie riguardanti la promessa e molto altro ancora.